Che numero è? I numeri da 1 a 100 in italiano. Che numero è? 34 58 15 69 93 12 41 27 76 84 13 62 49 37 56 25 81 71 74 98 58 11 52 82 85 85 21 21 21 14 63 93 96 32 32 33 33 33 49 49 79 78 48 48 49 49 49 49 50 50 49 50 50 50 50 50 50 60